via montebello bene con la speranza che non succeda niente come abbiamo sentito per radio e anche tv questa mattina alle 7 in Liguria poi pedonia, bardi anche quando potessi essere le cose che sono storti in Amica Candrella va bene ragazzi non so se saranno qui gli stessi giusto un altro aspettiamo l'un dì per andare in ferie ancora facciamo una settimana o due sd metteremo la neve perché andiamo a 2.000 m metteremo la neve e metteremo il sussi o il staglio va bene? intanto accettiamo l'acqua fresca qui dopo tutto qualche cosa che sta finendo sti bene pranzato buon fine settimana anche se è un weekend non è che tanto un bel pranzato buon fin della settimana sti bene e siamo qui ciao a tutti ciao 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 ciao